Paura e danni nel pomeriggio in Viale Asiago a causa di uno scontro fra due automobili. L'incidente si è verificato sulla rotatoria all'altezza dell'intersezione con Viale Palladio dove una Smart e una Golf si sono scontrate per cause ancora da stabilire. La Smart si è ribaltata in mezzo alla carreggiata mentre il muso della Volkswagen è andato quasi distrutto, illesi gli occupanti delle vetture. Sul posto la polizia locale per i rilievi di rito.